Un episodio di violenza e di intolleranza che succede da anni, dei migranti, dei braccianti che lavorano da anni in questo territorio. Purtroppo ci ritroviamo sempre qui a commentare dei fatti sempre più gravi. E questo è figlio, è frutto dell'intolleranza, è frutto del clima d'odio che viene esaminato ogni giorno e soprattutto in questi ultimi tempi con un ministro degli interni che sta cercando di buttare benzina sul fuoco. Queste situazioni purtroppo porteranno a far degenerare tutta la situazione ed è chiaro che bisogna intervenire immediatamente per evitare che non si ripetano più situazioni come queste ma soprattutto che venga ristabilita la dignità per chi ogni giorno si rompe la schiena a lavorare nei campi e non può subire atteggiamenti del genere. La soluzione è sicuramente intanto quella di smontare la baraccopola e la tendopola e di provare a inserire i migranti braccianti del lavoro in questo territorio e delle abitazioni dignitose. Ci sarebbe anche la dignità, però non è una possibilità, ma nessuno parla di questa soluzione. Da anni spingiamo verso questa direzione ma sempre che ascoltate. E' ora che venga presa una soluzione adeguata e dignitosa per queste persone.